Ce l'ha fatta. È andato davvero a correre come aveva promesso. Ma tu non puoi dargli la vinta. Ehi Siri, apri il cancello. Ci pensa Ubi Home. Grazie allo scenario che hai programmato per il fitness, sei ancora in tempo per fare bella figura. Con Ubi Home puoi fare molto altro. Ad esempio, abilitare le notifiche se rimane aperto il frigo. Ci pensa Ubi Home. Your life gets better.